Ritorna Zoom, l'appuntamento in diretta web di Italia2TV. Oggi alle ore 19 in diretta Facebook sulla pagina di Italia2TV ritorna l'innovativa formula di confronto su tematiche legate all'attualità. Argomento del giorno, una vita da influencer, con ospite tre tra i più seguiti influencer in Italia, Benedetta De Luca, Cristian Musella e Catiuscia Cavaliere. Si parlerà del mondo degli influencer, del potere commerciale, del mondo del web, di come attraverso il mondo di Instagram si possano sviluppare tendenze e anche sensibilizzare su tematiche importanti. Questi sono alcuni dei numerosi aspetti che si potranno analizzare durante la trasmissione in diretta web e condotta da Giovanna Quagliano. Vi ricordiamo che gli utenti che seguiranno il confronto potranno interagire direttamente con gli intervenuti. Farlo è molto semplice, i primi 100 che si iscriveranno al link dedicato al format, pubblicato anche sulla pagina Facebook di Italia2TV, avranno la possibilità di interloquire in diretta con i partecipanti al confronto. Il format sarà trasmesso anche in replica sulla nostra emittente il giorno seguente alla diretta Facebook.